Un punto che è sfumato proprio sul finale di gara. Il Sant'Arcangelo all'esordio cede, seppur in piena zona a Cesarini, l'Inter ha posto in palio al Pordenone, capace nell'arco del match di non meritare poi così tanto i tre punti. Solo tanto rammarico quindi per i Clementini che recriminano l'1-0 finale. Mi spiace soltanto che tutto l'impegno profuso da me e dai miei compagni di squadra che abbiamo avuto veramente il massimo non abbia portato a nessun punto. Abbiamo preparato bene la partita di settimana, sono tutti ragazzi nuovi, giovani però che danno tutti in allenamento, c'è un buon gruppo, questa è la cosa più importante. In campo si è visto un buon Sant'Arcangelo ed ora, alla seconda giornata, occorrerà pensare di mettere in cascina i primi punti in casa del Gubbio sconfitto 3-0 a Vicenza. Penso che il Miss possa essere contento, ripeto, della prestazione, purtroppo non del risultato, però sappiamo che c'è da lavorare, lo sapevamo già prima, abbiamo appurato soprattutto nelle partite di Coppa, che abbiamo usato più come test per provare varie situazioni, per provare vari schemi. Quindi dobbiamo già pensare al Gubbio e metterci a lavorare e continuare così.